La rosa della vendetta, anticipazioni di venerdì 21 giugno dove vedremo Deva vicinissima a Gulcemal e Mert rivederla, nonché tantissimi altri colpi di scena. Dopo aver sparato a Gulcemal, Deva rimane senza parole. Riflette qualche secondo sul da farsi ma decide di scappare lasciandolo lì da solo. Deva però non riesce ancora a camminare a causa del danno alla caviglia e arranca nel bosco. Gulcemal con le poche forze rimastegli riesce ad andarle incontro e a prenderle in braccio. Nonostante lei gli abbia sparato, lui non esita a portarla in salvo in una piccola casa di sua proprietà. La medica subito e lei, incredula, nota di poter camminare adesso. Gulcemal però perde molto sangue e la situazione non promette bene. Potrebbe morire se non viene subito medicato ed aiutato. Lo spiega a Deva che non potendo rimanere inerte a guardarlo morire, segue le sue istruzioni e comincia ad aiutarlo. Si preoccupa molto quando lui sembra mollare e lasciarsi andare ma quando invece lui riapre gli occhi e sembra potercela fare, Deva capisce che è la sua ultima possibilità di liberarsi e decide di scappare tra i boschi. Nel frattempo Ipek si è presentata a casa di Gulcemal con la polizia in cerca della sorella. Non c'è niente però che la polizia possa fare dal momento che tutti negano la presenza di Deva e che di fatti in quel momento la ragazza non si trovi realmente in casa. Nessuno è intenzionato a perquisire la casa o a cercare Deva e la polizia quindi è costretta ad andare via con Ipek. Ma è proprio qualche minuto dopo che una Deva stremata e zoppicante arriva a casa di Gulcemal. Lei vorrebbe solo scappare ma la coscienza le impone di dire almeno a Gara Hanna di soccorrere Gulcemal. Questa debolezza però la fa rallentare e proprio Gara Hanna insieme agli altri la riportano in casa. Gulcemal viene soccorso in tempo anche se lui stesso rifiuta di andare in ospedale preferendo ricevere le cure in casa. Questo è anche un piano di Gulcemal per avvicinarsi a Deva, infatti sarà lei a doversi occupare di lui. Lo dovrà accudire e curare. Ovviamente Deva rifiuta assolutamente di occuparsi di lui ma ormai Gulcemal sa come prenderla e si sdraia inerme aspettando che le sue condizioni peggiorino. Di fatti non appena Gulcemal peggiora ed è evidente il fatto che stia soffrendo Deva lo accudisce preoccupandosi genuinamente per lui. Il mattino dopo Gulcemal si risveglia e sembra stare molto meglio mentre lascia Deva riposare. Anche Mert si risveglia ma ha passato una notte agli insegni degli incubi. Ha sognato che Deva aveva bisogno di lui e che stava soffrendo per la sua lontananza. Preso dall'ansia vorrebbe uscire, Gulendam lo intercetta e dovrebbe seguirlo ma lui riesce ad uscire da solo. Vuole a tutti i costi mettersi in contatto con Deva. Gulcemal ha comunque dei piani da portare avanti. Infatti ha intenzione di rubare dei clienti importantissimi a sua madre Zafer. Dei clienti italiani che si sono sempre riforniti da Zafer e Deva. Gulcemal ha intenzione di fare affari con loro forte del fatto che Deva lavorerà con lui e non più con Zafer. Sua madre però viene a sapere dell'incontro tra lui e gli italiani e arriva in tempo per rovinarlo. Zafer confessa subito il fatto che Deva è tenuta prigioniera da Gulcemal e che quindi non lavorerà per lui. Gli italiani rimangono sconvolti e interdetti sul da farsi ma Gulcemal li convince a rivedersi il giorno dopo a cena. Dimostrerà a tutti che Deva vive e lavora con lui di sua spontanea volontà e finalmente firmeranno il contratto di lavoro. Gulcemal torna da Deva e la costringe a medicarlo anche se ormai è la stessa Deva ad arrendersi facilmente. Mentre lei lo medica lui le confessa il fatto che Mert non è ancora veramente morto ma lo è metaforicamente per lei. Deva non capisce cosa voglia dire ma Gulcemal adesso le impone di fare altro, di mangiare. Infatti la ragazza rifiuta il cibo da quando è stata rapita. Lui vorrebbe costringerla a mangiare delle uova ma quando lei scoppia in lacrime confessando di non mangiare uova dal giorno della morte di sua madre Gulcemal, profondamente dispiaciuto, ordina al personale di non cucinare mai più uova in casa sua. Nel frattempo Mert ha raggiunto il suo obiettivo, ha comprato una nuova scheda telefonica per cercare di contattare Deva. Chiamo a un collaboratore di Ribraim e scopre che non solo l'uomo è ricoverato in ospedale ma che la sua casa e il suo laboratorio sono andati distrutti. L'uomo gli dice anche che Deva adesso vive con un altro uomo molto ricco di cui non conosce l'identità. Mert allora chiama Ipek, lei è furiosa con lui, sa benissimo che Mert si è sposato con un'altra donna e che ha abbandonato Deva. Mert riesce comunque solo a prendersi degli insulti perché Ipek non gli dice nulla del fatto che Deva viva la sua prigionia proprio con Gulcemal. Deva rimane sola per qualche momento con Garana. La donna la conduce nella sua nuova stanza che dovrà dividere con Gulcemal visto che ha dato fuoco a quella che le era stata assegnata. Deva però è ancora molto triste e spaventata per il fatto di non riuscire a parlare con suo padre ormai da giorni. Prega Garana di portarla in ospedale ma per ovvie ragioni la donna rifiuta. Compreso però quanto Deva stia soffrendo, Garana le promette di chiamare lei stessa all'ospedale per informarsi sulle condizioni di suo padre. Per la donna sarà anche un'occasione di sapere come stia Ibrahim che, misteriosamente, conosce. Gulcemal e Deva passano del tempo insieme. L'uomo è determinato a conquistarla e a convincerla a lavorare con lui. Il giorno dopo dovranno incontrare gli italiani e Deva dovrà confermare il fatto che vive con Gulcemal di sua spontanea volontà e che sarà disposta a lavorare con lui. Gulcemal le insegna anche a sparare e lei sembra proprio divertirsi. Gulcemal poi la informa di tutto, dell'affare con gli italiani e del fatto che lei dovrà confermare di vivere e lavorare con lui di sua spontanea volontà. La scena è vista da Armagan alquanto sconvolto. È vero allora che Deva non è prigioniera ma è felice di stare con Gulcemal. Armagan, infatti, era andato lì con Ipek per riprendere Deva ma proprio in quel momento Ipek riceve una telefonata dall'ospedale che la informa del fatto che Ibrahim si è svegliato. Rimasto lì, Armagan parla comunque con Gulcemal che coglie l'occasione per far aprire gli occhi a suo fratello. Gli consegna la pistola che Zafer aveva dato a Deva per sparargli e confessa che è stato proprio sua madre a consigliare a Deva di usare la violenza. Armagan non crede alle parole di Gulcemal, lui non conosce questo aspetto di sua madre e si rifiuta di crederci. Un flashback di Gulcemal però ci conferma come Zafer, anche dopo che lui uccise suo marito, lo usava per i suoi affari loschi. Una volta addirittura incaricò Gulcemal di recapitarle proprio una pistola con la quale poi lo minacciò. Zafer, la stessa madre di Gulcemal, gli puntò la pistola alla testa minacciando di ucciderlo, dandogli poi il colpo di grazia dicendogli che lui, per lei, era già morto. Gulcemal viene a sapere che Mert ha comprato una nuova scheda telefonica e lo chiama subito per minacciarlo. Mert ormai è distrutto e senza speranza, ha capito di non avere scampo, che non riuscirà mai ad essere libero dalla morsa di Gulcemal. Gulendam lo raggiunge e vedendolo così disperato e senza speranza decide di aiutarlo ad un solo patto, che lui riconosca il loro bambino e che, comunque andrà, sarà sempre un padre presente per lui. Gulcemal è ancora desideroso di conquistare Deva, ma è anche preoccupato per il fatto che la ragazza non tocca cibo. Organizza allora una grigliata per convincerla a mangiare, ma lei non cede. Quando però lui si allontana per fare una telefonata, la vede mangiare. Quella di Deva era solo una protesta per la sua condizione di prigioniera, ma, credendo che non essere vista da lui, ha mangiato un po' di carne in preda alla fame. Lui non le dice nulla, è solo felice per averla vista mangiare. Però decide di renderla ancora più felice e le propone di andare in ospedale a far visita a suo padre. Garahana, intanto, va di nascosto all'ospedale per far visita ad Ibrahim. Lui, non appena la vede, rimane senza parole. Pensava fosse morta. Lei lo guarda con affetto e gli dice di ascoltarla. Forse è l'unica occasione che lei ha per dirgli tutta la verità, quella che non gli ha mai detto. Quando Garahana esce dalla stanza di Ibrahim, quasi incontra Gulcemal e Deva, ma fa in tempo a nascondersi e a cambiare strada per salvarsi. Deva, invece, al settimo cielo, entra nella camera di suo padre dove i due parlano. Gulcemal assiste da fuori la porta della camera. Li vede solo piangere, ma non capisce cosa si dicano. Tornati a casa, Deva e Gulcemal devono condividere la stanza. Prima di addormentarsi, Gulcemal le dice che se non accetterà di lavorare con lui, la dovrà lasciare andare. Deva non capisce proprio questa affermazione. L'ha rapita per costringerla a lavorare con lui e adesso che è vicino al suo obiettivo la vuole lasciare andare? Il mattino dopo, Armagan va a casa di Gulcemal, ma questa volta non chiede di Deva, vuole solo parlare con lui. I due si mettono in riva al lago a pescare. Armagan ha capito che Gulcemal conosce sua madre e gli chiede come, ma lui risponde solo dal disastro. Armagan non sa cosa voglia dire, ma Gulcemal lo convince a fare qualche ricerca e a tornare da lui. I due vanno molto d'accordo e infatti stringono un patto. Tra le loro famiglie andrà come andrà, ma loro due rimarranno amici segreti e continueranno ad incontrarsi. Intanto Gulendam ha organizzato la fuga per Mert. Desiderosa di vederlo felice e di non essere un peso per lui, ha organizzato la sua fuga in barca. Mert accetta volentieri il suo piano. Non pensava che Gulendam fosse così comprensiva e generosa. Mentre lui sale in barca e comincia ad andare via, però, Gulendam viene aggredita da due ragazzini che le rubano la borsa e la fanno anche cadere in mezzo alla strada. I due ragazzini si fermano per parlare. Sono stati pagati solo per commettere lo scippo, non avrebbero dovuto far male alla donna. Tutto accade sotto lo sguardo lontano di Mert, mentre Gulendam, per terra, lo guarda, desiderosa che lui torni indietro. In barca, Mert riceve una telefonata da Zafer, che gli chiede se vuole veramente rivedere Deva. Cosa farà? Andrà verso Gulendam o ascolterà cosa ha da dire Zafer? Gulendam si risveglia in ospedale. Purtroppo la brutta caduta dovuta allo scippo le ha fatto perdere il bambino. Lei crolla a piangere quando le viene data la notizia e cerca Mert, che però non c'è. L'uomo, infatti, ha deciso di incontrare Zafer, che gli propone subito un patto. Armagan, pronto ad indagare su sua madre, fruga tra le vecchie foto. Quasi subito trova una foto di sua madre da giovane con due bambini e non ha idea di chi siano. Intanto è tutto pronto per la cena con gli italiani. E Deva è bellissima e loro rimangono colpiti dalla sua bellezza e dal suo stile. Gulce, ma la manapena riesce a nascondere la sua gelosia per le attenzioni che la ragazza sta attirando. Mentre tutto si svolge come previsto, fa il suo ingresso Zafer, che, per impressionare Deva, ha portato con sé Ipek. Le due sorelle si riabbracciano non appena si vedono. Ipek non ha mai creduto al fatto che Deva stesse in casa di Gulce, ma la di sua volontà. Deva le conferma subito di essere stata rapita e di voler scappare. Però, cambia versione, non appena le viene chiesto di spiegare la situazione anche ai clienti italiani. Deve guardare negli occhi Zafer e dice a tutti di vivere con Gulceval per sua volontà e anche di lavorare con lui. Ipek rimane senza parole e, confusa dal comportamento della sorella, scappa via. Mentre Zafer rimane, ma non capisce come il figlio l'abbia convinta a dire quelle cose. Un flashback ci rivela che è stato proprio Ibrahim a raccomandare a Deva di rimanere ancorata a Gulceval e di non fidarsi in alcun modo di Zafer. Neanche Deva sa il perché, ma si è affidata alle parole di suo padre e ha confermato la versione di Gulceval. Zafer va via, apparentemente sconfitta. Solo fuori casa di Gulceval rivela al suo braccio destro di aver qualche modo fregato suo figlio. Gulceval, che pensava di averle rubato dei clienti, in realtà si ritroverà a lavorare per lei. Non solo Zafer ha fatto questo, ma ha anche in serbo un'altra sorpresa per Gulceval. Infatti, andata via Zafer, fa il suo ingresso in casa una sconvolta Gulendam. La donna non fa neanche in tempo a dire a suo fratello di aver sperso il bambino che entra subito dopo di lei Mert. Appena lo vede, Deva rimane senza parole, mentre Gulendam è sollevata che suo marito l'abbia seguita e non se ne sia andato. A quel punto, però, anche Mert si accorge della presenza di Deva e tutti rimangono senza parole. Terminano così queste anticipazioni di venerdì 21 giugno di questa bellissima serie chiamata Gulceval. Io sono Stefania, come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto dei commenti per sapere cosa ne pensate di questa nuova serie turca.